Musica Bene raga ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale Vi ricordo che sono uscite le mie felpe, magliette, canotte, chi più ce ne abbia ne metta Se siete interessati ad acquistare qualcosa trovate il link del mio shop in descrizione Comunque raga a parte questo, quest'oggi siamo qua con l'undicesimo mi sembra episodio della reazione alle vostre clip Come sempre mi raccomando mandatemele delle nuove alla mail a raxoclip.gmail.com E detto questo, andiamo E quindi partiamo subito dalla prima clip e tozza ovviamente su footbrawl e quando mai vediamo clip su questa modalità Comunque abbiamo Clash Axel con una Penny, prende la palla e ovviamente un doppio ribalzo, giusto così tanto per partire direi che ci sta Ma andiamo avanti perché indovinate un po' siamo sempre su footbrawl, non so di chi sia la clip ma qualcosa mi dice che è di Dio il the best Può essere pronunciare su e su e fa un bel doppio ribalzino con quella Jesse che rimane lì a dire che faccio vado non vado ma alla fine non è andata Poi andiamo avanti con Vale che è da su Vabbè i nemici qua non si sa perché Ma perché era andata, non lo so, va bene Andiamo avanti con, oh mio dio, Tino Gamer, proprio lui Che, vabbè, un altro doppio ribalzo Regà, no, 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 questo è un fail Eh sì, non è entrata, prego, prende la palla Ma andiamo ancora avanti, siamo ancora su foot con Giacomo, attenzione, Grumberi, le roti un po' fa qualche movimento per confondere ma puoi dire, fa un rimbalzo Torna tutto, torna tutto raga Ma andiamo avanti con Nico, Gix, Nico che cosa ci combinerà sempre su foot? Ovviamente usa la... Lui praticamente ha tirato, ha usato la special per far andare la parla là La parla là non è andata, è ritornata da lui Vabbè, eh, esatto, con un rallenty forse riusciamo a capire un po' meglio Che effettivamente si fa i devasti incredibili E giustamente tira in tempo prima che Frank lo Ma se, un clip un po' strana però ci sta raga, carino Andiamo avanti con la prossima clip Oh, tornano i cellulari che registrano altri cellulari Attenzione, abbiamo Mortis Che sarebbe... non capire I Cridl07 può essere? Attenzione, è partito, va spedito, non lo ferma nessuno E fa anche un rimbalzino Effettivamente se nessuno lo fermava Valeva la pena tentare anche il rimbalzino GG Ah, comunque ha zoomato sul suo nome Si chiama Recridio? No, Recridi07 No, ok, ok Andiamo avanti, siamo tornati su foot Mi mancava, raga Allora, vediamo un po' che succede Mancano pochi secondi alla fine Vince, per ora, la squadra avversaria Pochissimi secondi dalla fine Ma, in qualche modo Mortis tira E... No! No, zì! No, zì! Ma... Cioè... Se è conclusa quella palla che era lì davanti alla linea Rip Andiamo avanti con la prossima clip Attenzione, box opening Roba incredibili oggi potrebbero arrivare Cassa enorme Con qualche laggettino Non vedo gli skip, ma... Ok E trova Lo sta verde, Maxi Vediamo se c'è la reazione Allora, vediamo Ah Andiamo avanti con Clash Canary Oh, finalmente sopravvivenza Dai, yeah, bro Vediamo che ci combini qua Ma sto giocando contro il botto Ah, ma ho capito, raga Ma qua ho utilizzato un bug Perché gli ha scambiato la star power Vabbè, comunque non è una cosa... Cioè, si sa Praticamente sta usando la star power di Brock Con un bug Vabbè, va bene Andiamo avanti con Leon C'era anche nello scorso episodio Sono mi sbaglio con Mortis Vai, partito Ce l'ha, non ce l'ha Eccolo, rimbalzino Con tutta la squadra dietro di lui Che, poveracci Si sono ritrovati questo Mortis Che, baspedi C'è lì superi tutti No, così E poi fa un rimbalzino anche GG, bel gol Andiamo avanti Siamo adesso con... Ok, muore Ciccio Igor Anzi Torna in vita Marco, tira delle bottazze incredibili Lì devasta L'ha massacrata, raga Ma che è? Ma ammiriamolo nuovamente Perché c'è Leon che ha 27 power up Ok, che comunque ha perso molta vita Va bene Però l'ha massacrata La bottazza è incredibola, raga GG Prossimo clip Troviamo questo Frank Su foot Che prevedo Vabbè, ho qualche laghettino Però prevedo rimbalzi Li prevedo Vediamo Sì Si sta preparando È carico Lì sul pezzo Ce l'ha Lo vedo Lo sento Passa lì In mezzo A tutti Quasi Tlac Dove c'era anche il suo alleato E comunque è passato là L'unico punto dove doveva andare È andato Prossimo clip Troviamo una cosa Che non c'entra nulla con Brawl Ah, è così Ma cos'è? Ah C'è proprio Bellissimo Prossimo clip Abbiamo Giovanni Che è appena stato ucciso Intanto vabbè Con lag Incredibile Ma Va bene Ok Eccolo Giovanni Che torna con Colt E subiscono gol Ma rega Quanto sta laggando Ma che è? Ma lagga Troppo Ma non ho mai visto Una roba del genere Ma non capisco Se è la partita Che è effettivamente così O la registrazione O altro No, comunque secondo me Era proprio la partita Che laggava Ma andiamo avanti Con GX Pietro Mancano 4 secondi 3 2 1 No, e alla fine Fa gol così Fa gol così E rega Ho usato la special Su rosa E Non si sa come Per qualche strano Meccanismo fisico La palla È entrata No, aspetta Più indietro La palla È entrata Non Vabbè Non si sa come È entrata È entrata Raga Questo è quello che importa Andiamo avanti Con GERF Che Oh là Beccatevi Sto rimbalzo I nemici Là nel mezzo Lui arriva 8 di vita Tra l'altro Un po' di culen Ci vuole sempre Ma GG Andiamo avanti Ora con la prossima clip Perché abbiamo Messi Che non riesco a leggere Il nome completo Quindi lo chiamerò Messi Che è lì davanti Alla porta Attenzione Lì a tutti Davanti Che cosa Cazzo Rola è successo Non ho capito nulla È entrata Ma come è entrata Perché Si fa un po' di Slalomization Poi Vabbè In qualche modo è entrata Non si sa come Ma è entrata Prossimo clip Ancora un cellulare Che resiste ad un altro cellulare Ma abbiamo 7 skip Perché noi abbiamo visto 6 Ne abbiamo visti 6 Ma era in realtà 7 Dato che Non abbiamo visto loro Quindi attenzione C'è una Shelly Oh là E trova il primo Bruner Maxine Bruner mitico E l'altro cos'è? Non dirmi che trovo Il leggendario Andiamo a sentire anche La reaction ovviamente Però Mortis Due mitici Così Ah tanto Erano i primi due mitici Che trovava Roba incredibili Andiamo a vedere un po' La sua reazione Raga Allora siamo qua Ho trovato due brawler C'erano 7 skip Sì Ah vedi 7 skip Vale Eccolo Vale Schiaccia Ok Maxine Sì raga Vado Vai vai Beh comunque Non avrà trovato Leggendari Ma due mitici Scopetto che Mi spinta la mortis L'ha pure predetto Come hai fatto? Vabbè Reazione Tranquilla In realtà Mortis A meno che A meno che Non ci credo Wow Vabbè 8 gem Troppo tranquillo Raga vi sembra normale Cioè Eh no Il suo amico Diciamo che si sta un po' Contenendo Perché Raga Il suo amico È molto emozionante Però c'è il suo profilo Non lo so raga Vabbè Ok ok Si sta andiamo avanti GG per lui Prossimo clip Abbiamo adesso Non lo so Eh Forse GX Gian Domenico Raga Con il frencone Lì è carico Lo vedo sul pezzo Sta preparando qualcosa Ma non so cosa E fa fare un gol Normalissimo Raga Io reagisco a tutto Oggi abbiamo Una miriade di clip Che effettivamente Non hanno chissà Che cosa Di incredibile Però Vediamo Allora Adesso abbiamo Credo Rob Si Rob Con Bea Che vediamo un po' Probabilmente Ha la special carica Quindi secondo me È un bel rimbalzino Potrebbe anche andarlo a fare Infatti prende la palla Attenzione Ce l'ha proprio lui Quello vero Non è un fake All Quella Pam Muore proprio perfettamente Al suo Passaggio di palla Raga Ma un gol così Non lo fai neanche se lo vuoi Cioè Muore proprio in quel momento Raga È una questione di millisecondi Guarda Tira Cioè È morta proprio Quando era lì davanti Roba è anomale qua Ma che scherziamo Andiamo avanti con Bapè Che Vabbè Doppio rimbalzino Giusto così Per rimanere in tema Poi abbiamo GXPietro07 Anche lui Molto propenso A fare Bello storico Oh Questo sì che è un rimbalzo Bello raga Questo è assolutamente un rimbalzo Bello Grande Pietro Molto 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 carino Anche perché A parte che è passato in mezzo Tutti i nemici Poi da lontano Su un barile Che è messo lì Non si sa perché GG Questo mi è piaciuto molto Grande bro Ma ora andiamo avanti Con GXPizza Ma raga Ma c'è sempre Ma la stessa clip O me ne manda nuove Credo che sia nuova Fa un doppio rimbalzo O me ne manda 20 a settimana Di doppio rimbalzo Lui ma GG La prossima clip Abbiamo Not Danny 888 Attenzione che fa un bel doppio rimbalzo Anche lui Così raga Oggi Ne abbiamo visti 27 miliardi Di sti doppio rimbalzo Eccola Ehi Boom Vai Ancora Raga Io per oggi Direi che possa essere tutto Abbiamo visto Sì Non delle clip Stupende Però Magari con la prossima settimana Ce li faremo Dipende anche da voi Quindi mi raccomando Mandatemi tante belle clip Raga Noi come sempre Ci becchiamo alla prossima Con un nuovo video Bellissima Noi come sempre